Invece io vi porto in un'altra direzione, negli ultimi anni la ricerca dermocosmetica e quella alimentare hanno trovato interessanti punti di contatto, oggi parliamo dei nutricosmetici, lo facciamo con il dottore Andrea Obavero, presidente del Comitato Internazionale di Estetica e Cosmetologia Cidesco, sezione Italia, sentite. Sono tutti gli effetti degli integratori alimentari, quindi si assumono per via orale e si pongono l'obiettivo principale di migliorare l'aspetto esteriore della persona, quindi la pelle, agendo però dall'interno. Ormai la scienza ha dimostrato che esiste una strettissima relazione tra la nutrizione e la pelle, quindi esistono dei prodotti ad assunzione orale che permettono di ottimizzare quelle che sono le qualità della pelle. Quali sono i principali ingredienti contenuti in questi nutricosmetici? Ad esempio gli acidi grassi polinsaturi, soprattutto gli omega 3, le vitamine, i minerali, ma anche il licopene, dotato di proprietà antiossidanti e stimolanti della rigenerazione epidermica, i polifenoli dell'uva e del tè, alcuni fitoestrogeni della soia e i frutti di bosco che proteggono la microcircolazione della pelle.